Quando hai visto che Gianmaria ce l'ha fatta, cosa hai fatto? Sono rimasto senza parole, perché noi ci aspettavamo che vincesse l'altro, no? Che andasse via Gianmaria, perché già avevamo detto, sicuro Gianmaria stasera andrà fuori, è sicuro, guarda, perché siccome lui aveva parlato di ecologia, il Christopher, aveva fatto tutto un discorso bellissimo, e ha detto, vabbè, quel discorso avrà commosso tantissime persone, per cui Gianmaria è sicuro che esce. E invece, no, quando ha detto il nome di Christopher che usciva, sono rimasti tutti immobili, così nessuno mandava più messaggi, poi a un certo punto le urla. Bellissima. Va bene, bellissima emozione. Quindi Sapi continua la sua avventura sull'isola dei famosi insieme a Gianmaria. Certo, volevo soprattutto ringraziare i cittadini sapresi che ci hanno sostenuto tantissimo, tutti i ragazzi, tutti gli amici di Gianmaria, tutti i suoi follower, tutti, veramente tutti, ho trovato una solidarietà in questo paese incredibile, veramente.